Pistola a molla Smith & Wesson model 4505, replica della famosa pistola a molla, funzionante a molla, interamente corpo in ABS nero, loghi originali, portate descritte come su quella vera, ovviamente ha il letto funzionante, armamento a molla, estrazione del caricatore tramite pulsantino laterale, interamente nera, ottime rifiniture e sicura laterale, di oltre di mira, 100 colpi inseriti all'interno della scatola, alcuni pezzaglietti in dotazione, fotocopiabili, istruzioni, disegnata in Giappone, tra l'altro, Kei Wussi.